E se i studenti non stavano chiedere che ora vanno a fuoco a scogli di Osterdame o Den Haag, ora ho più cosa cambia. Il Ministero di Ensegni ha fatto tutto lo possibile per ampli e orizzonti di opzioni per i studenti, in quanto ha studiato in Aruba MES, in la regione, in America, ma anche in Canada. Un gruppo di entre 400 e 500 studenti non sono maggiori, e non sono stati in auditorio del Collegio EPI, e non hanno tutte le opzioni che ora vanno a studiare in America o in Canada. Beh, ha toccato vari temi di interesse, incluendo la parte finanziaria e il tipo di studio, allogamento e il livello di diploma come si riega in alcune etàmbi. Beh, mi ha riuscito più interesse, ma ho altri studenti in cui vanno in Olanda, ma ho chiesto di buscare più informazioni, ma ho spiegato molto, ma non ho aspettato. Adesso sto buscando studiante di U.S. e Canada, facendo un papi adoro di Skype e papi di non personal experience, e molto appreciato alla con informativi, e ho fatto inoce. E' stato molto rispetto, e ho fatto una buona presentazione, molto informativi. Onestamente, per me, come vi in IPE, mi dà la chiesa che avevo IPE, e poi andavo a trattare, però ora mi rendo IPE, e ho fatto un culinario, e ora poi andavo a buscare online, e avevo il deseo di seguir e crescere, ma ho detto, you know what, ora mi cabe IPE, e mi chiede a studiare. A me, mi non sono molto fanatico di Rolanda, però in America sì. Mi dicono che vai a una scuola in America, però mi non ho fatto informazione, ma ne di alle nozze, di in-state tuition, che mi dà actually hopi surprise, che mi chiede a Canada, che è super più caro, ma è tutto hopi informativo, e ora mi sto pensando, se mi sto vai a Canada, o se mi sto vai a Florida. E Canada e America, sono troppo più vicino di Rolanda, e la ho bemmatrice, per noi sapercibiamo di avere più opi, come molto meno dei loro, mi sto spero di avere anche per il nostro percorso, che noi conoscibiamo in una riograma, e che hanno accesso di tutta informazione via un sito, e qui hanno accesso, anche per aver ieri qui, che hanno accesso, che hanno una maniera di viaqui, e il nostro percorso, che abbiamo un corto, il nostro percorso, che hanno un giro, se non ci ha, e che hanno più più opi, con un altro paese a venire a remarcare, non ho un'università, ho un'università, ho un'università e ho un'università. E anche noi ci diciamo che è vallato e che non è vallato per studiare, o per venire a eserciare in Aruba, è molto importante. Il interesse di studiante non è venire, ma è una prova e la demanda di tempo per seguire a studiare in cercania, ma è un interesse per studiare in un altro paese. Il uso del idioma inglese è un caso con il cintico e il holandese, e quindi non è venire a studiare in un altro paese, non è unicamente in Holanda. Se non ci diciamo che è un'università, ho un'università, e quindi ci sono un'opzione che interessano più e più studiare. E più, più, anche se non ci sono più studiare, non ci sono più interessanti, ma è un'università più importante. E ancora, quando ho abrato, è un'università, non ci sono più interessanti che in Holanda non ci sono un'opzione. In Holanda sempre ci sono un'opzione. E' un'opzione più grande, non ci sono raggiunto. scuola e non però sì lo che non si mira nel ultimo anno è che noi stavamo con un gruppo di studiante che dovrebbero esplorare un'altra opzione la opzione è magari per la cercania ma è un programma e anche il idioma è un fattore di esplorio e questo significa che noi abbiamo abriamo le porte, noi abbiamo creare le opzioni per i studiante vorrei passare a capa per sentire come se il studiante è opta per studiare nella Università di Corsò, nella Università dell'America, però specialmente nella Canada che avreste un sinfine di opzioni per i studiante fuori di Aruba